La manifestazione Una montagna di dolcezze in programma domani sul Monte Orto Bene chiuderà il ricco cartellone di 20 appuntamenti che il Comitato Monte Orto Bene Ultima Spiaggia ha offerto in questa estate ai turisti enoresi che sono avventurati sulla montagna tanto cara grazie ad Aleda. Cultura, musica, sport, ambiente, funzioni religiose e poi impegno civile per restituire alla città dei luoghi e dei monumenti che appartengono alla sua storia. Dalla riqualificazione dell'epigrafe dedicata a Luisa Ierace, moglie di Vincenzo, morta in giovane età proprio mentre il marito era intento a realizzare la statua del Redentore che domina la cima del Monte Orto Bene, ma anche la riapertura della chiesa di San Gualberto, patrono del corpo forestale. Una lunga estate che si chiuderà con la manifestazione Una montagna di dolcezze che sarà l'insegna della solidarietà verso le popolazioni terremotate del centro Italia, duramente colpita dalla devastazione del sisma. Il Comitato Monte Orto Bene Ultima Spiaggia infatti ha deciso di devolvere gli incassi della manifestazione al netto delle spese vive. Un evento che ha colpito anche la comunità nurese con la morte di Filippo Sanna, il giovane originario del capoluogo deceduto mercoledì a causa delle ferite riportate nel crollo della propria abitazione. Quanto al programma della manifestazione, per tutta la giornata il Monte ospiterà una rassegna di prodotti dolciari, agroalimentari e artigianali del territorio. Mattinata a partire dalle 10 ci sarà anche il primo raduno di auto e moto d'epoca organizzato in collaborazione con gli amici del Monte. Impario copie trofei per l'auto e la moto più antica o meglio restaurata. Spazio anche alla cura dell'anima del corpo con l'evento Un Monte di Yoga organizzato in collaborazione con il Kundalini Yoga del centro Sardegna. Dalle 18.30 si parte con la musica offerta dai frammenti anni 60 e il gruppo Prato Sport e Nuoro Bailamos.